Buongiorno, oggi è il 22 marzo e abbiamo, nonostante i problemi che abbiamo, di sopravvivenza quasi il piacere però di sentire ogni tanto quello che ci dice Giovanni Guaraldi che operoso come un'ape continua a disegnare programmi futuri per le persone con HIV. Allora vorrei iniziare subito con a freddo il tema principale della nostra esistenza di questi mesi, solitudine, ansia, depressione. Essendo stati tutti e due al CROI, all'ultimo CROI di dieci giorni fa, cosa ne è emerso secondo te? Allora ciao a tutti, ciao agli amici di Nadire che ci ascoltano sia in modo virtuale sia in differita però in questa situazione vorrei innanzitutto ringraziare Filippo di questa opportunità e vorrei dire che comunque dopo trent'anni che frequento questo congresso il CROI rimane un gran bel congresso, questa è un po' la mia impressione, un congresso che nasceva dalla idea di studiare molto le infezioni opportunistiche poi dopo l'accesso alle terapie antiretoriali, quest'anno il CROI è stato straordinario nella misura in cui è stato un continuo passare dall'HIV al Covid. Ben chiaro è che il Covid non è un retrovirus quindi il titolo proprio non ci azzecca minimamente però in realtà c'è stato questo elemento molto importante che è stato il fatto che innanzitutto le persone che per trent'anni hanno studiato l'HIV oggi sono le persone che sono proprio in prima linea per studiare effettivamente il Covid e devo dire da questo punto di vista è stato meraviglioso nella misura in cui praticamente ogni relazione era un passare dall'HIV al Covid e andare a capire come l'HIV ha spianato la ricerca e l'interpretazione di quello che si verificava nel Covid ma viceversa anche come il Covid sta facendo passi sta facendo fare passi da gigante alla ricerca sull'HIV. Basti pensare che cosa è stata l'accelerazione degli studi sui vaccini per il Covid di cui già l'HIV ne avrà già adesso comincia ad avere dei benefici significativi. Tutto questo preambolo... Abbiamo sentito parlare varie volte, usare varie volte questo sostantivo, no? Collusione tra i due virus. Esatto, esatto ed è stato così. Allora questo era un lungo preambolo però per dire che anche nell'argomento su cui mi sta stuzzicando Filippo, no? E quindi ansia, depressione, solitudine, ecco in realtà anche su questo abbiamo degli elementi comuni nella misura in cui voglio dire in negli ultimi anni era emerso in maniera chiaro come il paziente che invecchia, scusate, la persona che invecchia con HIV era una persona più vulnerabile a degli elementi psicologici di sofferenza che hanno un impatto significativo sulla qualità della vita e che sono più specifici delle persone anziane ma in me sono più specifici nelle persone anziane con HIV e questo fa riferimento al tutto il tema dello stigma oppure del doppio stigma, lo stigma dell'HIV e lo stigma dell'aging. Ma se voi ci pensate questi temi sono stati anche temi molto importanti per quanto riguarda il covid, il covid che ha determinato per tantissime persone, soprattutto per tantissime persone anziane, la paura di uscire di casa oltre che il dovere stare chiusi in casa e questo ha determinato effettivamente moltissimi temi comuni e quindi siamo già stati anche preparati un pochino a capire come si studiavano questi fenomeni e quindi anche le ricerche sul campo, quelle ricerche che noi chiamiamo ricerche ecologiche in cui vado direttamente sulla vita quotidiana del paziente per andare a valutare questi pesce reported outcomes. Allora arrivo finalmente alla domanda di Filippo, c'è stata una ricerca che mi è piaciuta molto al CROI, è una ricerca di un gruppo che onestamente non lo conoscevo, è un gruppo che si chiama Aging with Dignity, Health, Optimism and Community Study. Il titolo è già abbastanza impressionante, quindi è un gruppo di ricerca che si occupa della dignità, della salute, dell'ottimismo nella comunità delle persone con infezioni d'HIV e devo dire un gruppo scientifico serio, un gruppo che sta facendo delle ricerche di alta qualità e questa volta ci hanno proposto una ricerca addirittura randomizzata, controllata. Essenzialmente andavano a valutare tre questionari, per quanto riguarda la depressione usavano la scala CSD che è uno dei questionari classici di screening della depressione, andavano a valutare l'ansia con il GAD7, il Generalized Anxiety Disorder, un altro test usato in psichiatria e poi dopo invece andavano a usare una scala, solo tre domande ma altamente standardizzata che si chiama tre items loneliness scale, quindi una scala sulla solitudine e in maniera randomizzata un gruppo, un gruppo di pazienti, erano due gruppi da 215 pazienti, un gruppo subito e un gruppo in maniera differita, potevano accedere a degli incontri virtuali, chiamiamole delle lezioni di mindfulness. Io onestamente ne so molto poco sul mindfulness, ma ho un figlio molto appassionato per esempio di queste cose e quindi essenzialmente sono, chiamiamole tecniche di meditazione, sono essenzialmente degli strumenti che vengono dati per cercare di sostanzialmente mettere ordine nella nostra mente, andare a capire che cosa è più importante, che cosa è meno importante. e si andava a valutare effettivamente se questi tre domini, quindi l'ansia, la depressione e la solitudine cambiavano ed è abbastanza interessante perché effettivamente i risultati sono risultati di uno studio randomizzato controllato, prima uno faceva l'intervento, l'altro era placebo, cioè non faceva assolutamente niente, poi dopo iniziava anche il secondo gruppo e si andava a valutare a metà e alla fine se effettivamente c'era un punteggio diverso per quanto riguarda l'ansia, la depressione e la solitudine. Se non sbaglio si collegavano online e facevano un grande gruppo dove praticamente si guardavano e facevano queste meditazioni. Assolutamente, devo dire adesso a parte il risultato, il risultato è positivo, funziona molto bene sia sulla depressione sia sull'ansia, sull'holiness ha funzionato un pochino meno, meglio ha funzionato, questo è interessante perché sull'ansia e depressione ha funzionato bene anche chi non aveva ansia e depressione e quindi miglioravano ulteriormente il loro punteggio sulla loneliness, soltanto sui pazienti che già sperimentavano loneliness prima. Però adesso, al di là del risultato secco, mi sembra che ci debba ispirare questo studio su due motivi. Il primo motivo è che si può fare della ricerca fatta bene, metodologicamente corretta, prima, usando i pesci a report ed outcomes, che è un tema molto caro a nadire a tutto il gruppo attorno, quindi usando degli outcome che sono pro, pesci a report ed outcomes, ma usando una metodologia molto rigorosa. La seconda situazione è che in un contesto come questo, dove tutti sono a casa, tutti sono più soli, tutti sono più ansiosi, tutti sono più depressi, bisogna fare qualcosa, non è che possiamo semplicemente piangerci addosso. E quindi dobbiamo, sia come singoli, sia come operatori sanitari, sia come associazioni, pensare che possiamo fare degli interventi efficaci e dobbiamo inventarceli. Allora, che sia una tecnica di meditazione, che sia un gruppo a cui possiamo partecipare. Ragazzi, noi abbiamo inventato in reparto addirittura le tombole via Skype, ok? Inventiamoci le tombole. Adesso non voglio dire che la mindfulness sia equivalente di una tombola, ma dobbiamo fare qualcosa, perché la mia impressione è questa, ecco, che c'è tanta, tanta, tanta solitudine e dobbiamo trovare il modo di fare degli studi di intervento. Dobbiamo raggiungere le persone a casa, chi si riesce a fare vis-à-vis in persona, magari, ma anche usare queste tecnologie dalla semplice telefonata fino alla più interattiva delle tecnologie, però c'è bisogno di fare qualcosa, Filippo. Poi penso che dobbiamo lanciare questo messaggio che lo si può fare, lo si può fare raccogliendo bene i dati. Questo è il mio suggerimento. Benissimo, sicuramente, ma io in questi giorni pensavo anche, avevo una fantasia che finisse questo periodo, e mi sono anche chiesto, no, ma quando finirà questo periodo? Ma io come mi ricostruisco? Cioè, ritornare alla vita. Ti ricordi, trent'anni fa, Starace, diceva, prima gli insegnavo a morire, adesso gli devo insegnare a vivere. Ci stiamo ritrovando nella stessa situazione. Non credo che sarà molto semplice, no, tornare alla normalità dell'uscita, della spesa, dell'andare a trovare gli amici, dell'aperitivo, della cena. Quindi anche il mindfulness non sarà soltanto necessario per uscire dai momenti di ansia e di depressione in questo periodo, ma probabilmente anche per ricostruirsi. Non so se sei d'accordo. Sono assolutamente d'accordo e penso che di fronte a, diciamo così, a questi eventi, che possiamo dire quel che vogliamo, ma sono comunque dei lutti, ci è stato tolto qualcosa, e va bene per noi, ma immaginiamo a tanti anche, non so, io vedo i miei figli adolescenti, voglio dire, due anni scolastici persi al liceo, ma insomma chi gliele restituisce? Io se penso al mio liceo sono degli anni bellissimi della mia vita che a loro sono stati negati, no? Quindi comunque sia è successo qualcosa, comunque sia io devo recuperare qualcosa che non sarà uguale a prima in ogni caso. Quindi davvero dobbiamo cercare anche ognuno di noi di trovare delle nuove dinamiche relazionali, soprattutto perché poi dopo in ultima analisi quello che conta sono le relazioni, no? E quindi come fare a recuperare un nostro stare insieme dopo eventi così stressanti, ecco. Quindi dobbiamo lavorare molto, ecco, sulle relazioni e è proprio per questo che la solitudine è la peggiore di tutte le condizioni in questo momento. Cambiando tema e andando invece al cuore della Croi, no? Che è sempre nuovi farmaci, nuove terapie, nuovi studi che portano alla luce cose non nuove, no? Di farmaci già in uso che noi abbiamo parlato sempre di Dual negli ultimi anni perché Dual ci piaceva, perché Dual era the prescribing, perché Dual aiutava anche la ricerca a fare qualcosa di più semplice. Cosa è venuto fuori della terapia a due farmaci versus la terapia a tre farmaci? Famosi testa a testa. Sì, devo dire, la lotta tra titani continua, no? E quindi, diciamo così, i fautori, i sostenitori delle strategie 2DR rispetto ai fautori e ai sostenitori delle strategie 3DR. Allora, si confermano i dati di efficacia delle terapie 2DR, ormai li diamo per assodate, ecco, che l'efficacia delle attuali 2DR sia paragonabile a quelle delle 3DR, però evidentemente non basta questa situazione. E quindi si tratta ancora di andare a capire, non, e questo è il mio punto di vista, non se una strategia è meglio dell'altra, ma si tratta ancora di capire qual è il paziente che giova di più in una strategia rispetto a un'altra. Allora, su questo, secondo me, bisogna spostare dall'approccio alla strategia a un approccio di medicina personalizzata. Quindi che cosa in quel paziente devo attenzionare rispetto a ottenere il massimo del beneficio se gli do una strategia 2DR, gli do una strategia 3DR. I temi sono tanti, allora rimane il discorso del weight gain associato alle 2DR con gli insti. E c'è stata un'intera sessione, per esempio, sul tema del weight gain associato agli insti, in cui emerge che buona parte di questo problema è molto legato alla tua storia passata, al nadir dei CD4. Emerge però che non sono solo gli insti, c'è sicuramente un contributo di TAF che ci fa ripensare oggi quando usare TAF e quando usare tenofobir, per esempio. Però c'è anche tutto il tema, per esempio, sul fatto che c'è stata una bella relazione di Serrano Villar, sapete, lo spagnolo che studia l'infiammazione, in cui su una corte non piccola, spagnola, studiata con tre campioni successivi, lui continua a trovare un segnale di aumentati indicatori infiammatori, essenzialmente lui studia la proteina ciriattiva e il didimero, nei pazienti che fanno 2DR rispetto al 3DR. Che conseguenza ha questo dal punto di vista clinico? Forse non lo sappiamo ancora. Però questo per dire che dobbiamo continuare a capire nel singolo paziente, dobbiamo spostarci sempre di più in una medicina personalizzata e andare a dire ma in questo specifico paziente il rischio del weight gain esiste o non esiste? Ridimensioniamo la cosa. Il weight gain è un fenomeno che riguarda solo una piccola parte di pazienti, pazienti che però pagano un discreto prezzo, è anche in termini clinici. Allora io devo capire quali sono i fattori di rischio, come prevenire questo fenomeno, sia nel naive, sia nell'experience. Piuttosto invece che non i pazienti in cui effettivamente io devo attenzionare i patient reported outcomes come vero outcome della terapia, ancora più importante di un outcome metabolico, per esempio, tante volte. E quindi ancora una volta l'idea di cercare di andare verso un approccio di medicina personalizzata. Penso che questo sia vero sempre in medicina, a maggior ragione nell'HIV, dove l'attenzione al paziente è stato un qualcosa che ha caratterizzato la medicina d'HIV rispetto ad altre specialità e di cui dobbiamo andare molto molto orgogliosi. Ecco, quindi diciamo così, secondo me il tema esiste, dual versus triplice. In questo momento non devono essere strategie contrapposte, devono essere strategie in cui si individua nel singolo paziente, anche qual è il momento storico di usare una triplice rispetto a usare una duplice, perché non dobbiamo pensare che il paziente sia statico. Il paziente è un percorso di vita con HIV, il paziente vivrà con HIV 50, 60 anni, allora probabilmente io dovrò anche adattare le mie strategie di cura a quella determinata fase della vita in cui dovrò stare attento, per esempio, come fisiologicamente noi abbiamo delle accelerazioni o delle decelerazioni dei fenomeni di invecchiamento biologico e magari in quelle determinate circostanze avrò bisogno di un approccio, diciamo così, più conservativo, piuttosto che non più, diciamo così, di risparmio nell'accesso alle terapie. Quindi, ecco, dobbiamo ancora lavorare molto, per fare questo dobbiamo conoscere molto il paziente, per conoscere molto il paziente, in un momento in cui il paziente lo vedo poco, ho bisogno di rimanere in contatto con lui al di là dell'incontro per gli esami del sangue. Quindi, ecco, lancio anche questa cosa, è proprio con Filippo, è un po' di tempo che stiamo cercando di studiare anche nuovi modelli di cura, io mi riferisco in modo particolare proprio alla clinica metabolica, andare a cercare come la clinica metabolica possa diventare, in parte, per carità, in parte anche un approccio virtuale in cui si possono esplorare tanti elementi, conoscere meglio il paziente che accede per aiutare anche i centri clinici periferici nel prendere delle scelte e aiutare la persona che vive con HIV a prendere responsabilmente delle scelte sui propri stili di vita, sulla propria salute, che non dipende soltanto dalle terapie che facciamo, ma dipende moltissimo da noi stessi e da come ci approcciamo e da come ci è cara la nostra vita, che valore diamo alla nostra vita. Ho sentito che hai parlato di accelerazione, questo mi ha fatto venire a mente una cosa che abbiamo sentito alla Croi, l'accelerazione della placca aterosclerotica abbastanza comune, fatto abbastanza comune tra le persone con HIV, si associa in qualche modo anche con l'aggravamento della malattia da coronavirus? Questo, diciamo così, l'ipotesi infiammatoria della malattia cardiovascolare è una roba che risale agli anni 2000, questo Peter Libby, grande cardiologo di Harvard, che per la prima volta disse la placca ateromasica diventa vulnerabile quando è infiammata. Tieni presente che su questo noi abbiamo costruito le campagne di vaccinazione per l'influenza. La gente non se ne rende molto conto, ma noi vacciniamo le persone anziane per l'influenza, non perché l'influenza fa tanti morti, ma perché l'influenza fa sì che ci siano tanti infarti dopo l'influenza determinati dallo stato infiammatorio indotto dall'influenza. Bene, questo concetto mettilo al quadrato e vale per il Covid. E quindi la gente di Covid solo in una piccola parte muore di insufficienza respiratoria, la gran parte muore di malattia cardiaca e questa malattia cardiaca riconosce varie patogenesi, ma una bella fetta è rappresentata dalla rottura della placca ateromasica perché ci sono in circolo tante citochine, quelle che noi abbiamo chiamato la tempesta citochinica nel Covid. Allora, tutto questo, notate bene, era già massimamente attenzionato nell'HIV dicendo che l'HIV è una malattia infiammatoria, sistemica, cronica, su cui dobbiamo agire attraverso un approccio di stabilizzazione della placca. La stabilizzazione della placca ateromasica avviene col controllo della carica virale e avviene con l'uso delle statine. E quindi, forse l'HIV è stata una delle prime branche della medicina in cui abbiamo cominciato a usare le statine regardless, notate questa parola, indipendentemente dai livelli di colesterolo, ma semplicemente per stabilizzare la placca ateromasica. Che cosa ci siamo accorti in questa situazione? Che avevamo tanti pazienti con Covid che ricoveravamo, che per esempio non facevano la prevenzione primaria. O addirittura qualcuno che stupidamente gli toglieva la statina nel momento in cui avevano il Covid. È esattamente l'opposto. Quindi oggi la terapia con statina è praticamente mandatoria nel paziente anziano con Covid perché sappiamo che è una delle cose che può proteggere la vulnerabilità della placca ateromasica che è presente praticamente in tutti. Man mano invecchiamo, capito? Chi più, chi meno. di più in chi è ipercolesterolemico rispetto a chi non lo è, ma che dobbiamo proteggere questa situazione. Ricordo che, proprio a conferma di questa cosa, gli infarti nelle persone con infezione d'HIV sono spesso infarti molto più basati sullo stimolo infiammatorio che non sullo stimolo metabolico. Quindi, torniamo a noi. L'HIV ha insegnato al Covid che la prevenzione delle malattie cardiovascolari si fa con le statine per proteggere la placca ateromasica. E io sono convinto che non abbiamo ancora detto bene quante persone si salvano per il Covid perché stiamo dando le statine nei pazienti con Covid. Questo penso che sarà un qualcosa che emergerà con più chiaro negli anni a venire. Grazie infinito, Giovi. È ora che tu vada a lezione. A lezione con gli studenti di medicina. Esatto, grazie. Grazie, sempre un piacere chiacchierare con voi. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti